scapputo donati e luca il nostro bomberone schiattarella è schiappa in campo lui scapputo oh mio dio che azione oh mio dio giattarella stufa donati caputo recupera palla bomber capputo bell'uomo che certo non sarà bello però giuttare defendi cosa ci fa lui in centrocampo deve difendere continui i conti non tornano donnarumma donnarumma tarocco c'è in porta caputo caputo oh mio dio caputo caputo risalta tutti caputo guarda ma perchè c'è donnarumma qui c'è guarna ma perchè c'è nessuno minala ottana laiala minala clazzato uno vittorio vabbè è passato mosè in questa difesa è passato mosè schiattarella c'è vabbè caputo defendi può correre defendi oh mio dio è uscito il portiere attenzione guardiamo sto schema attenzione a contrapieda corri minala tu che sei nero corri o è partito si fuorigioco però è partito ragà sto facendo 15 due success let's go baby NOOO NOspace ma dai donnarumma oh maaa oh maaa barriera bruh prendevo sto gol e io guittavo eh xxxx mezz'ora dopo si è bu- ma cosa c'è il mio quartiere si lancio mezz'ora dopo gli ritrati da centocinquantenne ma dall'altro la bomba minchia oh non corre il difotto non corre mentre sul sedice non riesce vabbè questo passa come se nulla minchia c'è le comiche deluca deluca attenzione partito caputo caputo taglia il campo caputo mamma mia che pro player caputo minchia mamma mia lo vede lo vede schiaccarella schiaccarella non si butta al portiere ma no 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 partenze vacate no! no no no! ragazza l'ha passata c'è il secondo tempo raga cioè io ho appena perso 4164 grande!! mamma mia che cambio di gioco signori per Ciabelli Ciabelli può correre! Ciabelli! non giuro che lo metterà dentro bell'oda metterà su youtube sta partita che prego caputo oh mio dio eh vabbè ma l'unica volta che non trattiene la balla non lo sfruttiamo ragazzuoli dai bell'uomo guarda mamma mia che chiusura di donati oh De Luca De Luca non è in fuorigioco De Luca partita la vaffa no that's the wrong number no 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 via bell'uomo eccezionale proprio lui è uno schema sa be chi schiva signori non mi pare esito a me si schiva De Luca è partita di nuovo no è errato mamma mia continuo mostro lo voglio sul team team l'anno prossimo schiattare mamma mia pure donati faccio la forza del veri tuffa la pelle no la cagnotto defendi mamma mia calcio champagne per loro schiattarella Sabelli Sabelli mamma mia mamma mia pure il 25 è un mostro non so cosa voglia fare però sono aperte le acque yeah ti capisco entrare l'era guarda centrale l'era il mio partire si sposta eccezionale caputo mamma mia che apertura De Luca De Luca in me puttana Minala di Bala 4 a 3 il bar non è dalla mia parte lo schema Sabelli pur caro ovviamente non lo prendo io un palo anzi un legno per esattezza caputo 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 dribbla tutti caputo ma minchia che piedi triangola cari che c'hai grazie schiattarella Morgan De Luca De Luca la mette a giro va 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 che schifo che schifo 5 a 3 già dopo che ho preso due pali tra qui una una sottosizione una schifo schiattarella l'ha fermato fallo al posto giusto nel momento giusto pronto per ribadire in rete fallo quello di prima però sabbare di merda oh schiattarella Morgan ha visto un bambino che voleva la palla lui gliel'ha lanciata che grande uomo schiattarella finisce qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti